Ed eccolo qui ragazzi, nuova edizione del grembiule da barbecue di 5-Eleven. Il grilling apron, questa volta green, il colore green, e conserva tutte le caratteristiche che ce l'hanno fatto adorare e che l'hanno reso la divisa ufficiale dei Rubber Ribs, la squadra di barbecue competitivo di Backpacko. Se volete seguire le avventure dei Rubber Ribs, che ormai sono agli sgoccioli del campionato nazionale, posizionati ottimamente in classifica, beh, vi consiglio di seguire il gruppo Facebook di Grill Pacco, che è il nostro reparto tutto barbecue. Bene, questo si aggiunge alla dotazione del griller tattico, di quello che ci piace. Grembiule tostissimo, tutto in nylon, avete a disposizione una zona vecro che, guardate un po', vi arriva con la patch dei Rubber Ribs, quindi avrete anche questa patch, un taschino per le sonde, le penne, le cose che servono, pannellatura molli per agganciare tasche e accessori, come se non bastasse, moschettoniera, qui no, questo è per uno stracetto, qualcosa di utile, e tasconi da tutte le parti per gli strumenti di lavoro, eccoli qui. E in una delle tasche un segreto comodissimo, un'apribottiglie per le nostre birre. Beh, questo si fa amare. Sta qui, non lo perdete mai, non lo abbandonate mai, ed è a disposizione. Il grimpiule è disponibile anche in qualche altro colore, questa è l'ultima edizione, è green, con l'ognomo, ve la faccio vedere meglio, la patch che arriva in dotazione, dell'ognomo che griglia. Ok, quindi nuova colorazione, questa volta green, con la nuova patch per l'apron di 5-11, disponibile su backpacko.it, dove trovate nel reparto apposito dedicato al barbecue, tutta una serie di salse e condimenti, che non potete assolutamente perdervi. Se poi vi piacciono queste cose, seguite il gruppo Facebook di Grillpacco, dove trovate tutto il battaglione griller di Backpacco. Grazie a tutti.